Allora, eccola qua, questa è una donna spettacolare, una grandissima cantante, una grandissima artista, una bellissima persona. Suona con altre due bellissime persone e due splendidi musicisti, Lorenzo Valdisalice e Nicola Uriacini, lei è Mara Redeghieri, io sono orgoglioso di essere qui oggi. Grazie a tutti. In questo posto che ha bisogno anche di un po' di rigore e di un po' di coscienza di chi vorremmo continuare ad essere. Durante i miei concerti, i miei mini concerti di futura umanità, ho davvero avuto l'occasione di incontrare delle persone speciali. Dopo aver terminato la storia con gli Simamò nel 2001, mi sono fermata per un bel po' di tempo a pensare a cosa volevo cantare e con chi soprattutto, perché sia la musica che i compagni di lavoro devono essere eleganti e preziosi, come Lorenzo e Nicola.